Dopo tutto quello che è successo Non posso cambiare il passato Ma forse c'è un altro futuro per me E forse per una volta posso fare la cosa giusta Sarà meglio che torni dai Finnegan Mi informerò che sto bene Sì, il colonnello Monroe ci ha informati Tu sei un pazzo Ma grazie Signor Cormac, mi spiace disturbarvi mentre vi riprendete No, io ne ho abbastanza di riposare Allora potreste aiutare un mio amico a tirarsi fuori dai guai? Ha scoperto un covo di criminali che preparano strane armi Guardate Proiettili che scoppiano come petardi Ci lascereste soli un momento? Si chiama Christopher Gist E si è cacciato nei guai Temo che lo impiccheranno come un cane Non lascerò che quei criminali lo uccidano Bene I cattivi sono nel vecchio Fort Arsenal Ho affari urgenti ad Albany Dite al signor Gist di raggiungermi là Hai sentito, cara? Impiccheranno un uomo al vecchio Forte Oh, sarebbe un peccato perdercelo Oidos Ma, la data non usate Molto che Vog LIKE Non, la data mi piace Non usate C'è l'iniest Ama Questi animali fanno parte della stessa banda Questi animali fanno parte della stessa banda Manda il colonnello Ben fatto, Shay! Ok, cacciati via dal loro stesso covo Beh, cercavo un posto in cui metter su casa Aspettate a comprare i mobili Forse ci sono altri uomini sulla loro nave Laggiù, guardate, ecco il loro vascello La Morrigan Che cosa ci fa lì? È la mia nave, amico Vi chiedo scusa, ma devo andare da quei delinquenti a riprendermi Fermo! Non permetterò che andiate da solo Aiutatemi allora Mantenete alta la guardia, Shay! I criminali sono ovunque E molti di loro sembrano cittadini per bene E stanno creando problemi alle persone che si sono prese cura di me Deve essere brava gente Sì, infatti Forse li conoscete Barry e Cassi di Finnegan Non li ho mai visti, ma conoscevo il figlio Attenzione! I balordi potrebbero essere ovunque Per attirarli potete fare rumore Ah, ho qualcosa di meglio da usare Bene Sembrate perfettamente in grado di occuparvi della questione Io intanto cercherò una nuova ciurma per il vostro vascello In caso doveste andarvene in fretta Sì, infatti 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 Sì, infatti